Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Santo curato d'Ars, tu hai fatto della tua vita, un'offerta totale a Dio, per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua intercessione, ci conduca a rispondere oggi, senza debolezza, alla nostra vocazione personale. Tu sei stato. Un assiduo adoratore di Cristo nel tabernacolo. Insegnaci ad avvicinarci con fede e rispetto all'Eucaristia. A gustare la presenza silenziosa di Gesù. Nel Santissimo Sacramento. Tu che sei stato l'amico dei peccatori. Sciogli i legami della paura e della superbia. Che talvolta ci tengono lontani dal perdono di Dio. Aumenta in noi. Il pentimento per le nostre colpe. Tu sei stato il sostegno dei poveri. Insegnaci a condividere con quelli che sono nel bisogno. Rendici liberi riguardo al denaro. E a tutte le false ricchezze. Tu sei stato figlio affettuoso della Vergine Maria. Il tuo più vecchio amore. Insegnaci a pregarla con la semplicità e la fiducia di un bambino. Tu sei diventato il testimone esemplare dei parroci dell'universo. Che la tua carità pastorale. Conduca i pastori a ricercare la vicinanza con tutti. Per condurli a Gesù. Otteni loro l'amore per la Chiesa. Lo slancio apostolico. La solidità nelle prove. Ispira i giovani. La grandezza del ministero sacerdotale. E la gioia di rispondere, alla chiamata del buon pastore. Santo curato d'Ars. Sii tu il nostro intercessore presso Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Maria Vianè. Pregate per noi.